Ciao cari amici e benvenuti. Questo video vuole essere un punto della situazione per quanto riguarda il recepimento del decreto modem libero. Ho fatto diverse indagini, quindi ora vi dico le situazioni aggiornate che ho ricreato, che ho scoperto, ma vi dico già che c'è bisogno dell'aiuto di tutti voi, quindi tutti noi assieme, riusciremo appunto a darci un'idea molto più chiara di quello che è stato fatto, di quello che si sta facendo e di quello che ancora gli operatori devono fare per mettersi in regola con quanto dice il decreto del modem libero. Perché non avesse seguito la questione? In pochissimi secondi che cos'è modem libero? L'Agicom ha condannato e ha obbligato e sta obbligando tutti gli operatori a mettersi in regola, a recepire quello che è un decreto europeo che permette agli utenti di scegliere tranquillamente quale modem utilizzare per la propria connessione a internet. Quindi gli operatori devono fornire tutti i parametri di configurazione per i modemi per utilizzare la loro soluzione di connettività, non devono più far pagare il modem a qualora lo stessero facendo pagare mese per mese e devono, se vogliono lasciare un modem incluso nell'offerta, non lo devono fare pagare o comunque devono farlo pagare solo ed esclusivamente se l'utente stesso sceglie di pagarlo. La delibera è ormai attiva e quindi gli operatori in questo momento in cui sto registrando e state vedendo, il video devono essersi adeguati a tutte queste regole. Da quello che ho visto, dalle indagini che ho fatto, ormai tutti gli operatori, tranne uno per quello che mi riguarda, da quello che ho visto, quindi tranne Vodafone, hanno reso disponibili tutti i parametri di configurazione per le varie soluzioni di connettività. Qui sotto in descrizione vi ho lasciato tutti questi parametri e terrò questa sezione aggiornata, quindi appena Vodafone rilascerà i parametri, nel momento in cui sto registrando il video non li ho ancora rilasciati, magari lo farà già domani, comunque terrò questa sezione aggiornata. Se avete addirittura qualche altro parametro di qualche altro operatore più regionale, condividetemelo qui sotto nei commenti che lo aggiungerò perché questa vuole essere una risorsa facile da consultare da chiunque. Vediamo invece per quanto concerne gli abbonamenti offerti dai vari operatori che cosa è successo fino ad ora. Wind Infostrada sia adeguata, offre un abbonamento di connettività senza modem incluso, diciamo che offre meno caratteristiche rispetto alle versioni con modem incluso, però ha un'offerta disponibile. Vodafone fa ancora la furba perché non ha più incluso il modem o quantomeno ve lo offre gratuitamente, ma ha inserito un contributo di attivazione di 5,90€ che vi blind a pagarlo per ben 48 mesi. Nel caso in cui vogliate andarmene prima, sarete obbligati a corrispondere tutte le rate mancanti in un'unica soluzione, oltre a diversi contributi di disattivazione. Telecom è ancora forse la più incasinata perché ha inserito diversi contributi, attivazione, disattivazione, modem, team expert, insomma vari extra che appunto vi obbliga a saldare completamente nel caso in cui ve ne andate prima di 24, in alcuni casi di 48 mesi. Tuttavia sembra che ora non obblighi più a prendere il modem e neanche a pagare quel famoso team expert che era un chiaro sostituto del modem, però se decidete di prendere il modem vi blinda per 48 mesi, quindi io non vi consiglio se volete fare team di prendere l'opzione con il modem o qualsiasi altro servizio aggiuntivo, guarda caso però la sua offerta costa mediamente quei 5 euro in più rispetto alla media dei costi di tutti gli altri. Per quanto riguarda Tiscali purtroppo non ho una chiara situazione, più che altro perché è meno presente sul territorio rispetto a quelle che sono gli altri operatori e quindi non ho potuto verificare direttamente. Tuttavia sembra essere stata la prima a mettersi in regola con la delibera Agicom e ad offrire un servizio senza costi nascosti, infatti da quello che ho visto nel momento in cui volete andarvene il costo di disattivazione o per chiudere insomma la situazione con l'operatore vi chiede solamente il pagamento di una mensilità. Per quanto riguarda Fastweb sembra che al momento si sia messi in regola nonostante non ci sia ancora nessuna soluzione di connettività senza modem, il modem ve lo dà, ve lo dà incluso gratuitamente nel prezzo e nel momento in cui volete andarvene semplicemente dovete restituirlo. Questa è la situazione oggi riassunta molto velocemente per chi sta attivando un nuovo servizio, vediamo invece che cosa succede per chi ha già un servizio attivo da anni e per mesi ha pagato il modem. La situazione sembra spaccata a metà, da una parte c'è Telecom che a quanto pare se ne sta fregando altamente, stanno andando avanti a far pagare ai propri utenti il modem ogni mese. Sembra che si sia appellata, attaccata a quello che è un ricorso fatto al Tar del Lazio, un ricorso che avrà seguito non prima di metà anno e fino a quando non ci sarà una risposta definitiva da questo ricorso andrà avanti a farlo pagare. Tutti gli altri invece sembrano essersi messi in regola, questo significa due cose, o che ha smesso di farlo pagare o che potete smettere di pagarlo restituendolo o comunque facendo una comunicazione scritta ai vari operatori. L'uso dei mail condizionali per tutto questo video non è una cosa che mi piace, mi è piaciuto fare, tuttavia gli operatori non stanno comunicando in maniera diretta, cristallina, almeno non tutti. Per questo a inizio video ho detto che c'è bisogno di tutti noi per fare e per avere una chiara visione di com'è la situazione. Per questo motivo ora è un appello che faccio a tutti voi, cioè per favore scrivete qui sotto nei commenti la vostra esperienza, più nello specifico, che operatore e che abbonamento avete in questo momento? Se state o non state più pagando il modem all'interno della bolletta, quindi se prima c'era poi è sparito o se prima c'era e ancora c'è. Se avete chiamato il centro assistenza del vostro operatore avete chiesto come poter smettere di pagare il modem per via della delibera modem libero e se non l'avete fatto, magari se avete voglia fatelo e scrivete qui sotto quello che vi dicono. Quello che farò nei prossimi giorni è a guardare i vostri commenti chiaramente, è raggruppare fino a qualche giorno fa, cercare appunto assieme di avere una situazione definitiva e chiara di quello che sta facendo. Per mettere in guardia chi magari sta per attivare un nuovo abbonamento o chi magari ha trovato una soluzione e condividerla insieme a tutti gli altri in maniera tale da smettere di pagare questo modem che non è dovuto o comunque risolvere qualsiasi altra situazione strana che magari nel tempo si è creata. Quindi ragazzi io vi ringrazio già da ora della vostra collaborazione, magari siate sintetici nei commenti in maniera tale che possa esserci più chiarezza possibile su quello che sta succedendo. E assieme arriveremo a una situazione chiara e cristallina e definitiva che potrà aiutarci tutti. Grazie ancora per avermi seguito e vi raccomando condividete questo video perché più persone riescono a contribuire qui sotto, più chiara sarà la situazione. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie, ciao!